Un'altra attività chiude nel centro storico di Sulmona. Si tratta della merceria Rosato, diventata un punto di riferimento per il quartiere di Piazza Minzoni, Piazza Plebiscito e non solo, dopo 32 anni di onorato servizio e di attività. Ma non chiude per la crisi perché la titolare ha raggiunto il traguardo del pensionamento. Chiude per mancanza di continuità. Ma la chiusura è stata una festa oggi per la grande famiglia Rosato, il brindisi con i clienti perché in 32 anni non solo si confeziona un bagaglio d'esperienza ma si creano anche dei legami. Questi 32 anni come sono stati per te? Sono stati bellissimi, sono da ricordare, l'ho fatto con amore, mi è piaciuto, ho avuto tantissimi clienti che sono venuti oggi a ringraziarmi di quello che io ho dato a loro. Dispiace perché dispiace però io vado in pensione e di conseguenza si cambia quindi inizia un nuovo periodo, mi dedicherò a fare la nonna, l'unico rammarico ecco di non essere riuscita a trovare qualcuno che potesse sostituirmi. Si può avere tutto, diciamo che tu hai dato tanto al quartiere clienti perché un'attività che è diventata nel trentennio un punto di riferimento, che cose i clienti invece hanno lasciato, hanno dato a te? Oddio, i clienti sono stati tantissimi, mi è piaciuto che sono venuti a ringraziarmi, questo sì è stato bello, qualcuno ha pianto, c'è stato qualche lacrimuccia un po' in generale però diciamo è stato bello. Grazie a tutti.